Ben ritrovati. Abbiamo concluso questi giorni, credo, interessantissimi, importanti soprattutto, perché il tracciato di tutte le discussioni ha portato la parola speranza come l'elemento fondamentale di tutto quello che riguarderà il nostro futuro. Noi siamo fortunati perché i valori della nostra società, pur essendo messi in discussione da eventi assolutamente imprevisti, stanno emergendo la solidarietà, la speranza, la forza e soprattutto la capacità delle nuove generazioni di mettersi in gioco. Io devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo festival. Ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a tutti e un buon arrivederci.